affrontiamo un tema di attualità oggi parliamo della disoccupazione o cassa integrazione per i professionisti l'iscro si tratta di uno strumento a beneficio di tutti i professionisti titolari di partita iva che hanno subito un calo drastico del reddito nell'anno precedente questa nuova indennità regolata dalla legge di bilancio all'articolo 1 dal comma 386 e seguenti è rivolta a tutti i titolari di partita iva iscritti in gestione separata inps parliamo quindi dei professionisti artigiani e commercianti ne sono esclusi inoltre non si tratta di un'aiuto a pioggia come i famosi bonus di marzo e aprile di 600 euro ma i requisiti da rispettare sono abbastanza stringenti fatte quindi queste premesse vediamo nello specifico come funziona per richiedere l'iscro il primo requisito fondamentale è essere un professionista titolare di partita iva iscritto alla gestione separata inps da almeno 4 anni da un punto di vista reddituale poi se vuoi effettuare richiesta devi tenere come riferimento il reddito dell'anno precedente per prima cosa questo deve essere inferiore a 8.145 euro e deve essere inferiore anche al 50 per cento della media dei tre anni precedenti inoltre questa indennità non è compatibile con altri trattamenti pensionistici o con altri trattamenti previdenziali obbligatori pensionati e dipendenti con partita iva non potranno richiederla anche chi è possessore del reddito di cittadinanza è escluso veniamo ora alle questioni pratiche come si fa a richiederla e quanto spetta l'indennità verrà erogata direttamente da inps ma ad oggi non è ancora attiva nessuna procedura e seguiranno sicuramente nuovi aggiornamenti con delle circolari dato che il tema è molto scottante faremo sicuramente dei nuovi contenuti sul nostro canale quindi ti invitiamo ad iscriverti per non perderteli ad oggi possiamo dire solamente che l'istanza deve essere trasmessa entro il 31 ottobre sulla propria area riservata del sito inps sarai tu come professionista ad autocertificare il possesso dei requisiti e successivamente inps invierà i dati reddituali ad agenzie delle entrate per eventuali controlli ammesso quindi che hai tutti i requisiti vediamo ora quanto ti spetterà la legge ci dice che il beneficiario dell'iscro ha diritto in sei mensilità al 25 per cento del reddito percepito l'anno precedente da un minimo da 250 euro fino ad un massimo di 800 il calcolo è abbastanza semplice ma i passaggi sono diversi facciamo un esempio supponiamo che nel 2021 la tua attività entri in crisi e vuoi effettuare domanda per l'iscro come sappiamo il reddito da tenere in considerazione è quello dell'anno precedente quindi quello del 2020 supponiamo che questo reddito sia 8 mila euro il primo requisito ce l'abbiamo infatti il nostro reddito è inferiore a 8.145 euro adesso dobbiamo vedere se questo reddito 8 mila euro è inferiore almeno al 50 per cento della media dei redditi dei tre anni precedenti quindi dobbiamo tenere in considerazione 2019 2018 e 2017 facendo la media dei tre importi come possiamo vedere qui accanto salta fuori 20 mila euro adesso per valutare se abbiamo il secondo requisito dobbiamo prendere il 50 per cento di questo risultato ovvero 10 mila euro 8 mila euro il nostro reddito è inferiore a 10 mila e quindi abbiamo diritto all'iscro vediamo adesso quanto effettivamente ci spetterà per calcolare quanto effettivamente ci darà l'inps dobbiamo tenere in considerazione come abbiamo detto prima sempre il reddito dell'anno precedente nel nostro esempio 8 mila euro siccome l'iscro si calcola su base semestrale la prima cosa da fare è dividere 8 mila per due ovvero 4 mila euro noi riceveremo in sei mensilità il 25 per cento di questo importo ossia mille euro per sapere quanto riceverai mensilmente dall'inps ti basterà semplicemente dividere mille per sei e quindi salta fuori 166 euro come vedete parliamo di un aiutone insomma in ogni caso non si riceveranno 166 euro ma almeno il minimo quindi 250 euro prima di terminare parliamo di qualcosa che è passato in sordina che sicuramente non farà felici ulteriormente professionisti ovvero il metodo con cui verrà finanziata questa nuova indennità il suo finanziamento infatti sarà portato da un aumento dall'aliquota della gestione separata inps dello 0,26 per cento la nuova aliquota per il 2021 infatti non sarà più il 25 72 ma il 25 98 e negli anni successivi subirà un ulteriore aumento dati quindi requisiti molto stringenti e i pochissimi che ne beneficeranno si tratta concretamente di un aumento di aliquota ben giustificato se volessi maggiori informazioni ti invitiamo a consultare il blog sul nostro sito www.partitaiva24.it dove oltre a tutte le novità sull'iscro trovi moltissimi aggiornamenti sul mondo delle partite iva